E' arrivata! L'automobile, economica e spaziosa, destinata a popolare le strade italiane. Ecco a voi la Fiat 126. L'utilitaria patta per durare. Per testarne la robustezza, l'abbiamo sottoposta ad un'ardua prova, giù per le scale di Città Bella. La vettura supera egregiamente l'esperimento. Le strade e le intemperie non saranno mai un problema con la 126, così come i parcheggi, senza però rinunciare ai quattro posti. Fiat 126. L'auto per tutti.